È un avvelenatore di pozzi, cioè questi verbali sono delle armi messe sul tavolo perché le persone si sparino l'una contro l'altra, questo dice in qualche maniera. Sì, è molto intelligente, è bravo, conosce praticamente i segreti di Tizio, di Cagli, sempre la mette gli uni contro gli altri. La storia della, mi lasci dire una roba avventata, guardi, la storia di Ungheria è ridicola. La storia, la prima volta è una tragedia, la seconda volta è una farsa, questa è una farsa. Ma quale Ungheria è Ungheria per carità. Qui c'è semplicemente un faccendiere che cerca di recuperare ricatti, situazioni di denunce, per tranne un profitto personale. Mi si deve spiegare perché non sono mai stati sequestrati a questo signore i decidi di meno di euro che gli ha pagato Eni, sapendo bene dove erano i conti. Perché è stata rimandata indietro una nave carica di petrolio, come leggo dai giornali di Racheno, quindi in realtà, violando l'embargo e non è stata sequestra la propria di Milano. Tutti tendono a tenerselo buono perché così poi possa... Perché questo è un punto, questo è un punto importante, Fittipaldi. Questo Amara che dice che...